Amicizia, aiuto e presenza sul territorio. Con questo spirito, nelle scorse ore, oltre 300 scout di ogni età si sono radunati in Piazzale della Libertà a Pesaro per festeggiare la fondazione dei cent'anni di scoutismo pesarese. L'evento, che chiude una tre giorni intensa e ricca di iniziative, ha rappresentato un momento di aggregazione per far conoscere ancora di più lo scoutismo a Pesaro. Attraverso incontri conoscitivi, attività di gioco e musica, Pesaro si è riscoperta per un weekend capitale dello scoutismo. Il centenario è un'occasione sicuramente da non sprecare, un'occasione per poter celebrare il passato, però è un'occasione importante anche per vedere il futuro, per avere uno sguardo verso il futuro, perché cento anni sono importanti ma il futuro che ci aspetta sarà sempre difficile e comunque per noi è una sfida. Nel lato verde della piazza gli scout hanno poi innalzato tre nuove bandiere, quella degli Agesci, acronimo di associazione guide scout cattolici italiani, della FSE, Federazione Scout d'Europa e infine quella italiana. Le indigioni sono state tantissime, al convegno dell'altra sera eravamo quasi 500 persone, ieri sera la piazza dietro la palla di pomodoro era quasi piena, le canzoni che si sentivano anche da distante era molto bello. Quali sono i valori che cercate di trasmettere alle nuove generazioni, a chi si unisce a questa avventura? Il valore principale oggi è molto rivolto allo far stare insieme i ragazzi, vediamo che dopo questi anni di pandemia i ragazzi fanno sempre più fatica ad avere relazioni sociali vere. Lo scoutismo è un bel ambiente, un ambiente che ti sprona a essere te stesso, a non avere filtri e questa cosa oggi nel mondo di adesso è molto importante. L'amicizia tra i ragazzi, l'educare insieme, sicuramente l'educare al servizio, quindi essere cittadini migliori, provare a lasciare questo mondo migliore di come l'abbiamo lasciato, uno dei motivi fondamentali del nostro fondatore. Ciao di Davide! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.